Walter Mazzarri sarebbe stato esonerato dal Napoli sembrava essere una notizia falsa, una fake news ma sembra essere ufficiale che Mazzarri sia stato effettivamente parlando esonerato dal club bianco-celeste per eccellenza vi ricordo che i rapporti sono sempre stati molto buoni con il padrone del Napoli, ossia ADL Arena Laurenti eppure però, purtroppo, sarebbe arrivato l'esonero forse, diciamo così, per colpa della situazione, chiamiamola di gioco o meglio, situazione dei risultati ottenuti negli ultimi tempi sta di fatto che però, ripeto Mazzarri, sarebbe stato o meglio è stato letteralmente esonerato chi prenderà il posto di Mazzarri? diciamo che sembra essere quasi sicuro che Calzona Walter Calzona sarà il nuovo cittico, o meglio il nuovo ordinatore proprio del Napoli va bene? la Valeria De Laurenti sarebbe detto che è sempre molto doloroso e difficile dare addio ad un caro amico perché? Perché è un caro amico di famiglia grazie a tutti, il video termina qua iscrivetevi, commentate buona giornata bui